Quante volte siamo costretti a scegliere? Chi o cosa ci costringe a scegliere sempre e in ogni caso? Il dualismo fu introdotto nella storia della filosofia moderna da Cartesio, ma effettivamente è un concetto molto più antico. Esso compare infatti già nelle opere di Platone. La mente e il linguaggio. Queste erano le due sostanze ontologicamente separate, tra cui non poteva esistere alcuna influenza di tipo causale. A Taranto, una città del sud Italia, padre e figlio ci sono riusciti. Sono Dino e Tiziano Ricci, pizzaioli da tre generazioni. All'inizio sembrava praticamente impossibile, anzi a dire il vero mio padre non ci credeva affatto. Tiziano questa cosa non si può fare proprio. Ci sono voluti anni di prove, esperimenti e litigi. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Pizzaburger Ricci, un hamburger di carne di altissima qualità, racchiuso da un impasto che vanta una tradizione di tre generazioni. Tutto quello che hai sempre desiderato, in un solo piatto. Amici dello sportello del cittadino, siamo sul piazzale, appunto antistante la stazione di Taranto. Vi abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi lo stato di degrado assoluto in cui versa la stazione. non è l'area antistante la stazione, per la verità anche la stazione all'interno è un altro quadro penoso, ma quelle che sono le mie considerazioni trovano purtroppo riscontro nei cittadini. E così, incidentalmente, mentre con il mio operatore video eravamo a fare le riprese, ho incontrato Mimmo Roberti, che innanzitutto è un carissimo amico, un fratello bianconero, ma al di là di questo è un volto noto nella città di Taranto, molto legato alle tradizioni tarantine. E quindi è un cuore ferito quello di Mimmo Roberti, un cuore ferito che denuncia questo stato di decozione. Io devo dire Mimmo la verità, non avevo notato una mostruosità. Queste palme, questi alberi che entrano in casa, siamo appunto su Viale Duca d'Aosta, il viale che conduce alla stazione. Alberi che entrano in casa. È da tanto tempo che non viene operata da parte dell'AMIU un'azione di pulizia di queste palme, soprattutto sul lato destro, sul lato destro. Ah, è una cosa assurda. Come avete filmato, penso che avete fatto, avete ripreso le immagini, queste palme sono arrivate anche al secondo piano di una palazzina che fa angolo con Piazza della Libertà, il piazzale della stazione. Il piazzale della stazione che rappresenta il biglietto da visita principale di una città tenuto in questo stato di degrado continuo. Mimmo Roberti, non a caso mi dicevi, tua mamma e i tuoi familiari abitano qui. Quindi tua mamma si affaccia davanti alla camera da letto e si trova le palme in un occhio. Non solo, ma questo fatto è anche abbastanza pericoloso perché siccome c'è un via vai di topi, i topi chiaramente, topi, rettili, possono entrare in casa comodamente. Saltano tranquillamente dentro casa e quindi sono costretti a tenere chiuse le finestre anche in periodo di estate, perché qui mi sa che è scoppiata un'estate anticipata e quindi a soffrire il caldo. Questo per quanto riguarda le palme. Poi ritorniamo, proprio qui abbiamo fatto vedere l'ufficio, la succursale Taranto Nord, il recapito Taranto Nord di poste italiane, il marciapiede, proprio antistante e, passatemi l'espressione, ritorniamo purtroppo sull'argomento perché è un porcile vero e proprio, è purtroppo la realtà che supera la fantasia. Vergognoso, è una cosa vergognosa, lì sembra una fogna all'aperto. Purtroppo ci sono i cosiddetti clochard, quindi gente purtroppo sfortunata che addirittura dorme da quelle parti, non hanno casa, non hanno nulla. Non faccio colpa, non do colpa a questi poveri disgraziati, io però dico, rendiamo l'amministrazione comunale, mandate qualcuno a pulire, caspita, mandate, voi volete parlare, signori dell'amministrazione comunale, signori della giunta, sindaco, voi parlate di sogni, volete l'attracco delle navi da crociera e scusatemi l'espressione, dove devono attraccare le navi da crociera, nello schifo. Io dicevo appunto, non hanno nessuna colpa, la colpa è di coloro che amministrano questa città, che non si rendono conto dello stato di totale, degrado penoso. Non si pensa che dinanzi a un ufficio postale un minimo sarebbe pulire il marciapiede, pulirlo dai rifiuti e dalle erbacce, neanche quello. C'è un continuo via vai di operatori postali, portalettere, i camion che vengono a caricare, a scaricare, raccomandate, posta. Molto spesso si trovano costretti anche a dover fare manovre strane per poter arrivare fino al cancello ed entrare all'interno. Ma ripeto, la sporcizia che sta proprio lì sul marciapiede antistante l'ufficio del recapito di Taranto Nord è una cosa esilarante, una cosa che fa soltanto pena. Pena e basta. Bene, e allora ci congediamo qui, ringraziamo Mimmo Roberti e io direi che a questo punto potremmo fare una petizione anziché piazza della libertà, piazza dello schifo. Ripeto, io la polvere sotto il tappeto non la metto, è vergognoso, mi vergogno da Tarantino che altri nostri concittadini, che i turisti debbano avere per colpa di questa classe che amministra Taranto in maniera evidentemente non idonea e mi vergogno di avere, di presentare una città in queste condizioni. Vergogna. Non so se i baresi nella loro città si comportano allo stesso modo, visto che ormai i baresi ci amministrano a Taranto. Non credo proprio.